Benvenuti a tutti, io sono Valentina della classe 5a S. Manca qualcosa? Così va meglio. Quindi oggi capiremo da più vicino il fenomeno dell'elettrizzazione di un corpo facendo volare il tinsel per mezzo delle cariche elettriche. Ma andiamo ad approfondire meglio con l'esperimento. Il tinsel Il nastro adesivo Un bicchiere di polistirolo Una tortiera di alluminio Un pezzo grano di polistirolo Un panno di lana Questa non è magia ma un principio della fisica. Il tinsel incomincia a volare perché la ripulsione elettrostatica dalla tortiera lo spinge verso l'alto e lo tiene in aria anche se la gravità lo spinge verso il basso. Un pezzo